I fazzoletti di Winnie the Pooh Cartica Kindles Always Play and Day Si questa è una nuova serie di fazzoletti più belli In verità Winnie the Pooh è il mio cartone armato preferito della Disney Ci volevo mostrare prima delle P-1000 il grande ritorno Qua c'è Pimpico che dà i soldi Una farfalla, due farfalle, Winnie the Pooh che si avrà E qua dietro c'è Winnie the Pooh e Pimpi che si abbracciano Poi c'è Play and Day Kindles Always Play and Day Winnie the Pooh sopra Tigro Con la sciarpa e Winnie the Pooh con i fiori Si c'è anche il pezzo E chi in questa way c'è Winnie the Pooh con Pimpi Winnie the Pooh Tigro, Pimpi e Osso sono migliori amici Va bene altri discorsi sigla Iscriviti al canale 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 Salve a tutti amici iscritti, ritornano gli Happy Meal Unbossing di Paolo Paoli New Italia, venne di erano uscite una nuova collezione di Happy Meal, e oggi che è uscito dal 5 novembre potete trovare in ogni Happy Meal, o 6, non ve lo ricordo, il 5 si, gli Happy Meal di Space Jam, si si si, questa settimana chissà cosa troviamo, oggi siamo nella settimana 1 e recensiremo l'Happy Meal di Space Jam, va bene cominciamo, prima la scatola, nella scatola degli Happy Meal c'è, il negro Leborn, che è del cartone animanti che sta cazzando con Buzz, e metti il canestro, si, sei della Tune Squad o della Goon Squad, scarica l'app Happy Meal per continuare divertiti con Space Jam New Legends, dove c'è Titti che sta giocando a fare il canestro nelle mamme, potete scansionare, c'è ancora questa serie di cose, queste le palline per mandare in canestro Space Jam, c'è anche Lola Bunny, e qua c'è New Vengeance Space Jam al cinema, potete trovare dal 25 in digitale, in blu-ray, in dvd, guarda, guarda le istruzioni attentamente bambini, ricordatevi di iscrivere al canale, mettete più mi piace, condividete, guardate, e alla fine del video, vi lascio la playlist e la puntata precedente, va bene, iniziamo, a partire la prima settimana abbiamo Yosemite Sam, è il mio personaggio preferito, quello che insegue Bip Bip, Willy Coyote, si, adesso apriamo Yosemite Sam, questa settimana, troverete Yosemite Sam e Willy Coyote, sempre due giocattoli, quattro settimane, perché in tutto i giocattoli sono in otto, sono tutti otto, questi giocattoli, va bene, apriamo Yosemite Sam, ecco Yosemite Sam, è stato impacchettato con la carta bianca, forse nuovo, che ciò è di plastica, è stato impacchettato di nuovo, ciò è di plastica, abbiamo trovato Yosemite Sam, e non c'è neanche la cartina, sì, non c'è neanche la cartina, c'è Yosemite Sam con una palla canestro, sfreccia così e fa così, guarda, bel giocattolo, adesso apriamo il mio personaggio preferito degli Unitoons che insegue Bip Bip, Willy il Coyote, sì, che appare anche in il cartone animato Bugs, va bene, apriamo, Willy Coyote, va bene, adesso i giocatori di oggi dell'Epimilsoni pacchettati con la carta bianca, bello, abbiamo trovato Willy Coyote, sì, Willy Coyote, ci sono due razzi, e puoi mettere Willy Coyote, e puoi mettere Willy Coyote per speciare così, dato che non ci sono le istruzioni, sembrano come i peluche degli Happy Meal, vabbè, questi sono i giocattoli della prima settimana dell'Epimil del McDonald's Space Jam, e che dire, è tornato la collezione, sì, sì, forse prenderemo anche Bugs Bunny Bip Bip Bip, lo scoprirete se collezionerò tutti i giocattoli della serie Space Jam, va bene, va bene ragazzi, buone Happy Meal a tutti, ragazzi, buone Happy Meal a tutti, ragazzi, buone Happy Meal a tutti, sezione community per non perdere nessun post tutti i giorni o a volte sul canale YouTube di Paolo Paoli, che ha aperto la selezione community, ragazzi, community, forse andate nella sezione community nel canale di Paolo Paoli, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.